avanti chi è più bello lucazzo vlaulic o un pare palermo vieni pare palermo più bello un pare palermo scuzzulao come si dice a trappolo ingiampare che faciste scuzzulasti che erano i termini mamma mia allora intenditori di bellezza intenditori di attaccanti e non buon pomeriggio alla mente il mondo calcistico gente che piangono per lo cazzo gente che piangono per vlaulic quindi interisti ventini vlaulic rimane con noi io di qua lo punterei invece gente ci vattene via vattene via c'è di meglio come per lo cazzo lo cazzo lo cazzo rimane lo cazzo speriamo alla fine quello vi abbia praticamente bidonati vi accestinati giustamente allora ragazzi il mondo sento parlare nei media perché dico una notizia di lukaku e vlasio lukaku e vlasio il mondo è pieno di attaccanti addirittura meglio di loro è che giustamente come si dice sono poco conosciuti magari si fanno vedere la testa e la gente però nessuno se li fila ma non è così bisogna cambiare bisogna cambiare comunque detto questo ora possiamo marotta mi piace marotta dice perché perché marotta non capisce di calcio e giuntoli sicuramente è molto meno di marotta ma giuntoli ci arriveremo secondo me arriverà a quei livelli ora quando vi dico ora da oggi in poi partirà una sfizia di giocatori che ti dico io perché le occhiate le ho visti giocare ma poi parlano anche fatti rifatti no e i fatti dicono sono che i fatti dicono che giustamente è per esempio marotta ha messo gli occhi puntati su questo qua balunno balucunno la un schifo si chiama ma balunno o bigy babbo la balu belin balun belin belen che su balun balucunno qua ragazzi c'è questo balunno non l'ho mai visto ma che cazzo non dovete guardare sull'Italia ci sono altri campionati ma balucunno è un ragazzo che l'anno scorso in in league one nel campionato francese è stato il capo cannoniere si è classificato come quarta posizione quattro quattro 21 gol ha fatto questo balucunno non male che di marotta e capisce le calci si va e vai su lucazza aspetta che pichiamo balucunno quindi se l'inde prende questo giovane vedi che è buono è buono certo poi vediamo in 0 a un altro campionato ma andando ti pigli un attaccante che è stato il quarto in e costa poco pure costa poco ora io dico aggiuntoli per questo giuntoli mi deve prendere come suo socio giuntoli i stessi gol 21 gol e si è posizionato pure quarto in classifica e questo openda 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 no a panta la panta una voce alla panta e poi c'è openda l'openda è una buona macchina openda ancora quindi openda 23 a classe 23 anni c'è un ragazzo stessi gol di balucunno giocatore che è stato attaccato l'ipc a questo però l'anno scorso ha giocato in league one ha fatto il stessi gol di balucunno quindi alle volte c'è bisogno di andalucano perché il mondo si è fermato allora no prendiamo gente nuova sia da parte dell'inde io pensavo io penso non mai quindi giuntoli tu prendi openda prendi openda tu valutato 30 milioni di euro vedremo la faccia prende openda vedete che stessi gol lo fa capito ascolta poi il male sembra allegri 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 senti di questa viraperosa la cosa storica non si fa più colpa di allegri ma colpa sua colpa di schifezzo mi dispiace se l'avvocato a niente sa una cosa del genere risuscita risuscita dato proprio a tomba veramente è una cosa vergognosa di non fare io ando su a vinto subito l'anno sempre fatta sto giro niente perché hanno a girare in america hanno a giocare la bacellona riammarito capito mi pare avanti andando in america torna in america e quindi non hanno tempo a meno però è sbagliato perché vi la perosa si doveva fare secondo un mio punto di vista va bene quindi mentre che marotta ha messo gli occhi caro mio ma che giunti io io spero ripeto se giunti mi prendo openda che sono il prima a dirlo il prima a dirlo su queste piattaforme ci chiamo imparare anche alla producce l'occhio certo sì 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 sono e sono brevetti ognuno ha le sue doti naturali quindi va bene quello si picchia la bigy babolo e noi chiamo la panda la panda o penta figlio di apollo fece la palla di pelle di pollo tutti openda per vedere la palla di openda di pollo fatta di openda figlio di apollo va bene openda giunto le openda impareremo capisce le cacce